Ciao a tutti siamo qui con Danilo Cerni tastierista di Fluido Rosa e Gabriele Macciano cantante di Fluido Rosa. Manca qualcuno di noi? Sì non sono tutti qui però ci saranno. E cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di realizzare un nostro disco di brani originali dopo tanti anni di tribute band dei Pink Floyd. Sì vorremmo fare come i Pink Floyd stessi che falliti come cover band hanno cominciato a fare cose completamente originali forse non riusciamo a fallire come cover band. Forse è questo il problema però noi ci proviamo lo stesso e abbiamo bisogno del vostro aiuto ovviamente per realizzare questo nuovo progetto. E come si chiamerà questo disco? Ovviamente il lato oscuro di giove Oppure Atomo Cuore Mamma? Sì anche. Però in realtà noi faremo musica che ci verrà da dentro Esatto. Per la quale saremo ispirati e non sarà uno scimmiottamento della musica dei Pink Floyd che forlato manco ci piace da noi. No ma infatti... Per il marino Ahahahah 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 Ahah 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 Ahah